Buongiorno, io sono il dottor Marcus Stanton, insegno in Germania e insegno ai medici come integrare le loro terapie nei vari ambiti. Also in Italy, there is the so-called Scuola di Alta Informazione, which dedicates its work in giving this information to different doctors, therapists, how to work more holistic and how to integrate quantum medicine into their daily work. Anche in Italia c'è questa Scuola di Alta Formazione che insegna ai medici e al personale infermieristico come integrare le terapie in una visione olistica che tenga anche conto della medicina quantistica. E utilizzando il cosiddetto S-Drive è possibile analizzare il background, il sottofondo del paziente, per vedere quali sono gli elementi che in modo sistemico configurano il suo stato di solito. L'elemento chiave è quello della risonanza che ci permette di testare, di stabilire per ogni elemento se c'è una carenza oppure un eccesso che può causare dei disagi o delle potenziali malattie pazienti. Questo non è un'analisi laboratorio, un'analisi tipica di sangue che guarda i contenuti nel sangue, ma in realtà è più importante guardare il corpo all'interno, nelle cellule, nelle tessure, nelle tessure, nelle tessure, nelle tessure, nelle tessure, nelle tessure. L'elemento S-Drive aiuta a raggiungere questa informazione. L'elemento S-Drive aiuta a individuare le informazioni che ci permettono di vedere una situazione globale del paziente e non è un laboratorio di analisi che dà i singoli dati in dettaglio. L'elemento S-Drive ci dà informazioni su quale risposta, su quale informazione è più importante per il corpo in questo momento. L'elemento S-Drive ci permette di fare un elenco di priorità su gli interventi più importanti per ristabilire l'equilibrio nella salute. Molti pazienti sono restati con molte domande non risposta. Se non si svolgono in un certo schermo, se non si svolgono in un certo rastro, sono semplicemente non risposta con le domande. S-Drive ci permette di andare a vedere il background della situazione del paziente e di andare ad analizzare quelle che sono le cause profonde che possono produrre determinate situazioni. L'elemento S-Drive ci permette di un reporte che è molto legibile, anche per il paziente. Conta informazioni, conta informazioni, conta informazioni, conta informazioni. Ma, sotto la città, c'è un numero di informazioni di questo reporte. Quindi, è facile, anche per non-holisti doctors e non-holisti therapists, per lavorare più integrativamente e più olistiche. Questo sistema S-Drive può essere anche utilizzato da medici che non sono medici olistici per integrare le loro diagnosi in una visione più complessiva del paziente. La Scuola di Alta Formazione, in Italy, in Italia, provides courses for those who are unexperienced how to integrate that into their daily work. I will repeat that. I will repeat that. The Scuola di Alta Formazione provides courses to teach how to integrate this into their daily work. La Scuola di Alta Formazione offre dei corsi per insegnare come integrare queste procedure nel lavoro quotidiano. And what is especially of a value is that with the S-Drive you can check in a course of 90 days how the progress is made and how changes actually are happening due to the things given in the therapy. What is so fascinating also is that sports teams, even professional worldwide renowned sports teams, use the S-Drive to optimize the performance of their players. So, if it's hard to define what health actually is, there are two factors that definitely are the most important ones, and that is happiness, and that is wellness. and this is what it's about, to optimize the body for more lightness, for less loads, for less stress, and a more easy life, especially in these modern times. What is also very helpful for the therapist, and for the, for my doctor colleagues, is you can make a hair test and have your result within 15 minutes, which means while you talk to the doctor, and you talk to the patients, you can already give those results into the talk, and they help to make decisions on where the therapy is going. In today's world, there are many different influence factors that in evolution have not been there before. Now, the S-Drive helps to determine whether there are influence factors that change the body's performance. examples for this are toxic loads or certain parasites. If there are problems with the intestine, then many things are not properly resorbed, so therefore the people lack certain nutrients. When the intestine does not absorb in a way appropriate, there may be a lack of certain nutrients. And even more modern, we have influence by electromagnetic fields and different other frequencies which disturb our power plants in the cell, the so-called mitochondria, in their performance and how much energy they deliver. by lowering the body energies, the problem is there is a chronic fatigue, there is a distress, there is an emotional change, so therefore the people just don't feel in their middle and they don't feel in control of their life and don't have enough energy. So, by using the S-Drive you can help to optimize a person's daily life by thinking about what to eat, by thinking about what to supplement as well to support the whole situation and to get them back into their middle and their optimal performance. And especially since there is one problem, if someone has a certain diagnosis, most of the time everybody looks at this diagnosis. And first of all, it's not questioned whether that's the actual cause. Too often, unfortunately. But also, all other fields often are just left untouched and unsupervised. So, the S-Drive helps to broaden that perspective and to look into other fields which might contribute or even contribute more to the situation. And the S-Drive helps to connect also, not only with teachers and professors at that point, which talk about their own experience, but also it connects to other people that use this device in their daily work and in their office and how it contributes in talking and informing the patient. Hopefully, these words were a little bit helpful to show the background and to show the benefit in integrating the S-Drive into the daily work at a doctor's office and for therapists and advisors. So, we hope that we can understand the importance of the S-Drive to integrate the medical work in their daily work. of our daily work. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.